sono qui non so perché non so come mi ci sia ritrovata ma sono felicissima di far parte di questa di questa famiglia di noi energia ho conosciuto saverio una persona che io sono una persona di pancia che quindi va proprio a sensazioni ad emozioni e lui è riuscito a colpirmi ad entrare nella nella mia di anima e non intendo lasciarlo uscire oggi proprio parlavo con lui e le ho detto saverio devo dirti una cosa quando penso a te ho un'immagine l'immagine di un corpo a terra senza vita e tu hai funzionato con me come un defibrillatore mi hai svegliata da una morte quasi sicura